E' una bellissima stagione. Lo scorso campionato come è finito, ovviamente lo aspettavamo da tanto questo scudetto e ripartiamo al meglio per questa nuova stagione. Noi arriviamo da Torino e siamo contenti di essere qui per questo nuovo inizio. Con lo spirito che penso che i ragazzi siano consapevoli di quello che hanno fatto e speriamo in bene con i nuovi acquisti. E' una seconda stella perché in Coppa la vedo un po' dura visto le squadre inglesi e spagnole che secondo me hanno qualcosa in più di noi. Siamo carichi, speriamo di fare bene. La squadra c'è, gli acquisti sono stati fatti. Siamo fiduciosi, siamo carichi. Speriamo in bene. Quest'anno la sticella si alza un po' di più. Sì, quest'anno mi aspetto almeno i quarti di Champions League, assolutamente. Scudetto da ripetere, ovviamente. Più carichi che mai, nel senso più consapevoli anche delle proprie forze, delle proprie debolezze e soprattutto con ancora più fame perché abbiamo vinto una volta e si deve vincere ancora. Quest'anno però la sticella si alza, ci si aspetta qualcosa di più anche in Champions League? Assolutamente, infatti l'obiettivo primario del Milan a parer mio quest'anno non è tanto riconfermarsi in campionato che quello sarebbe riduttivo, ma sarebbe più andare avanti il più possibile in Champions in questo caso e quest'anno passare almeno i gironi di Champions per poi giocarcela dagli ottavi in poi.